Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Tieletti Molise. Dati scientifici, cultura della prevenzione, laboratori ed incontri con i giovani. Ottimi risultati per la terza edizione della Notte dei Ricercatori che si è svolta. Al Neuromed di Pozzilli. Grande successo per la terza edizione della Notte dei Ricercatori al Neuromed di Pozzilli. All'interno del Parco Tecnologico, una serie di iniziative durate tre giorni, laboratori, confronti, diffusione di dati scientifici e non solo. Un viaggio della conoscenza per dimostrare come la vita umana è sempre caratterizzata dalla ricerca e come la ricerca stia evolvendo. Per i tanti visitatori un percorso emozionale nel mondo della scienza cercando di diffondere la cultura della prevenzione per migliorare la vita. A parlarne anche il direttore scientifico, il professor Luigi Frati. La ricerca scientifica migliora la vita. La ricerca scientifica in ambito biomedico migliora la vita un tantinello di più perché ovviamente ci farà stare meglio in prospettiva, genera qualità anche nei servizi sanitari e quindi è estremamente importante. L'altro problema è quello di abituare i giovani al contatto con la scienza, con la scienza vera. Questo fatto in una struttura di grandissimo rilievo dal punto di vista qualitativo e quantitativo come Neuromed fa capire qual è la ricerca internazionale. Noi parliamo molto di competitività internazionale, di necessità di ripresa, di occupazione, tutte queste belle cose. Bisogna mettersi bene in testa che senza avere alta qualità della ricerca e dell'innovazione non si compete in ambito internazionale. La sfida di Neuromed con gli altri IRCS, con l'apporto del Ministero della Salute e con l'apporto importante della Regione Molise è quella di essere competitivi in ambito internazionale. Noi abbiamo anche il progetto Moli Sani, che voi sapete è un progetto di controllo delle malattie cardiovascolari, di correlazione fra una sana alimentazione e una sana vita e anche su questo siamo leader internazionali. Quest'anno è una terza edizione, ci vediamo l'anno prossimo alla quarta perché saremo sempre qui, sempre più agguerriti, sempre più importanti, sempre più competitivi con la nostra ricerca e con la nostra umanità verso i malati. Ricordiamo che noi abbiamo l'80% di malati da fuori regione, è un marchio di grande qualità di cui siamo orgogliosi per qualità della clinica e per qualità dell'umanità che ci contraddistingue. Canti, balli e animazione alla Fondazione Sant'Antonio di Padova a Trivento in occasione della Festa dei Nonni. Vediamo il contributo. La Fondazione Sant'Antonio di Padova ha celebrato a Trivento la Festa dei Nonni alla presenza di tutti gli ospiti della struttura, familiari, gli animatori dell'Associazione Pacioc e del personale, sempre disponibile e solerte ad ogni necessità. Un evento che ha voluto rinsaldare il legame tra generazioni diverse per non disperdere i valori della famiglia e della comunità locale. L'Istituto di Via Cappuccini ospita 27 anziani provenienti dal circondario Trignino e dal vicino Abruzzo. È una festa, io l'ho chiamata, una festa con una famiglia allargata. Infatti non abbiamo fatto nessun tipo di invito o altro. Lo festeggiamo con i nostri nonni, io li chiamo i nostri nonni, non i nostri ospiti. Per cui è un momento per stare insieme e per fargli vivere un po' una giornata diversa. Anche se noi queste giornate le facciamo settimanalmente, il gruppo che anima la festa, Pacioc Conlus, il gruppo Clown, viene tutte le settimane, il martedì, a fare questo tipo di intervento. Perché ci teniamo che i nonni, oltre a stare bene fisicamente, stiano bene anche mentalmente. Ecco, il benessere delle persone più anziane, voi ospitate settimanalmente l'Associazione Pacioc, Clown Terapia. Ci sono anche altri interventi particolari per i vostri anziani? Allora, gli interventi particolari vengono fatti comunque in concomitanza con prescrizioni mediche da parte dell'Asrem, quindi riabilitazione da parte dei fisioterapisti esterni non nostri, perché qui non c'è un reparto di fisioterapia, anche perché è una casa di riposo, non è una residenza sanitaria assistita. Quindi, diciamo, poi ci sono interventi che fanno le suore, la congregazione delle suore di Montefalcone, le suore della Carità, che giornalmente, la mattina, oltre ad animare, diciamo, sotto l'aspetto religioso, quindi con la recita del Santo Rosario, animano anche l'attività manuale degli ospiti, facendogli fare dei lavoretti, per mantenerli sempre, diciamo, abili in attività. Il dottor Fulvio Fusco, assieme al suo gruppo di clown terapia, ha portato una ventata di allegria e partecipazione, ospiti coinvolti in canti, balli e giochi. Futuro, regole ed opportunità al centro della giornata della matricola, ospite d'eccezione, il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, che ha lanciato un messaggio a tutti i neostudenti dell'Unimol. Corruzione, fuga di cervelli, scarse risorse alle università per la ricerca. Il quadro italiano non è proprio tra i migliori ed analizzandolo appare sempre più necessario invertire la rotta, puntandosi sul principio di uguaglianza, ma abbattendo quegli ostacoli che rendono impossibile una realtà meritocratica. E di questo che stamane all'Unimol, in occasione della giornata della matricola, ha parlato Raffaele Cantone, presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. Oggi, ha spiegato, servono opportunità che dipendono dalla competitività, possibile solo grazie al merito. Solo le opportunità fanno guardare con una logica diversa al futuro, per far sì che i cervelli non fuggano e che abbiano le giuste condizioni economiche per lavorare nel paese. Ho parlato delle condizioni che dobbiamo creare perché tutti abbiano le pari opportunità, della necessità che tutti abbiano, come avviene in tutte le democrazie mature, le condizioni a prescindere dalle provenienze. Nel nostro paese queste condizioni non sempre ci sono state. Una delle ragioni per cui le condizioni non ci sono state è che il sistema è stato bloccato anche dialogiche di illegalità e di malaffare. Ovviamente è una delle ragioni, non l'unica, ma c'è sicuramente anche questa. Il messaggio è quello dell'impegno. Io sono sicuro che con l'impegno si possano ottenere risultati, in questo è quello che dico ogni giorno ai miei figli, che tutto quello che si riesce a costruire con le proprie forze vale il doppio e tutto quello che non si riesce a costruire con le proprie forze è fondato sull'argilla, non regge. Rivolgendosi sempre agli studenti, Cantone si è soffermato sull'attività dell'autorità nazionale anticorruzione, rimarcando l'importanza di intervenire prima che accada un fatto e quindi prima che ci sia l'illegalità. Inevitabile il passaggio poi sulla ricostruzione post-sisma, che purtroppo non ha segnato un'occasione di rilancio del tessuto economico e quindi del territorio. E' sempre nella giornata della matricola spazio anche alla testimonianza di Luigi Sansone, presidente della Banca Popolare delle Provincie Molisane, che si è rivolto agli studenti di economia. Ha portato la testimonianza di una realtà che funziona Luigi Sansone, presidente della Banca Popolare delle Provincie Molisane. Nell'ambito della giornata della matricola ha incontrato gli studenti della Facoltà di Economia Aziendale raccontando il percorso dell'istituto che dirige e che sta nel tempo, offrendo sempre più posti di lavoro. Innanzitutto voglio lasciare tanti auguri per il nuovo anno, che adesso inizia con oggi, e poi dare anche un po' di conforto in un momento in cui per i giovani la vita è particolarmente dura. Mi riferisco poi non tanto al periodo universitario, ma a quello post-universitario, quando si cerca di avvicinarsi al mondo del lavoro. Oggi purtroppo il 40% dei giovani non riesce a trovare un'occupazione. Nel momento che abbiamo creato in Molise questa realtà della Banca Popolare, che non esisteva fino a dieci anni fa, perché le vecchie banche erano state assorbite nel processo di aggregazione, è anche un modo per testimoniare che in Molise si può fare impresa e si può dare lavoro a tanti giovani, come stiamo facendo noi. Poi un consiglio a tutti gli universitari, affinché non manchi mai il giusto impegno. Ai giovani io do questo consiglio, innanzitutto di impegnarsi negli studi, questo è fondamentale, ma poi anche di cacciare fuori la grinta, l'autostima, cioè non basta sapere tante cose che imparate all'università, bisogna saperle mettere in pratica e bisogna farlo con decisione, con forza, cercando assolutamente, come devo dire, di capire e non abbattersi alle prime difficoltà che indubbiamente ci sono sempre, sia nel mondo dell'ossulio che in quelli del lavoro. Bisogna che i giovani sappiano puntare su se stessi. Il Molise ha perso un grande artista, un uomo di cultura poliedrico ed impegnato, il maestro Walter Genua che tanto ha dato la sua terra e tanto ha lasciato alle generazioni di studenti che ha formato. La notizia mi ha raggiunto al ritorno da un breve viaggio fuori regione. Walter Genua non è più con noi. Ho perso un amico, una persona che tanti valori culturali mi ha trasmesso nel corso di oltre 40 anni di frequentazione. Scompare uno degli artisti più interessanti di questa nostra regione, un artefice significativo di tante idee nel campo della pittura e della scultura del nostro paese, che sapeva dominare la comunicazione visiva attraverso dipinti e sculture di grande forza emotiva che sempre sono stati apprezzati dal grande pubblico di intenditori, frequentatori costanti di ogni suo allestimento, di ogni sua proposta e mostra. Splendido anche nell'ingisione, mostrando la padronanza completa nel mondo complesso ma affascinante dell'arte moderna. Genua è stato anche un ottimo insegnante, ha trasmesso ad intere generazioni di studenti molisani la passione per l'arte e la conoscenza delle opere dei periodi artistici che hanno fatto dell'Italia la culla della cultura occidentale. Un uomo di scuola, che ha vissuto nell'integrità e nella massima onestà, non soltanto intellettuale, ma concreta e significativa, anche attraverso un impegno politico assai incisivo, come consigliere comunale di Campobasso, eletto nelle fila del Partito Comunista Italiano, quello di Una Volta, dove i dirigenti portavano il nome di Paietta, a Mendola Berlinguer. Una persona mite, semplice, ma dalle grandi visioni artistiche e culturali, parte funzionale di un gruppo di artisti che ha voluto fortemente il riscatto del Molise, traghettandolo fuori dall'isolamento culturale che lo aveva accompagnato per lunghi tratti della sua storia. Ricordarlo per me è un obbligo, soprattutto perché tante volte ho presentato lui e la sua opera artistica nei seminari e nei convegni che lo hanno visto protagonista assoluto. Giungano da noi di TLT Molise le più sentite contoglianze, alla signora Lina e ai figli Gianfranco, Carla e Giuliana. Lo facciamo riproponendo alcune immagini delle sue opere, riprese in una delle ultime sue mostre, a dimostrazione che ancora tanto resta e resterà del maestro Walter Genua. Alunni e studenti di Isernia e Casa Calenda in visita alla riserva naturale UNESCO di Monte di Mezzo, nell'altissimo Molise. Il viaggio culturale per partecipare alla festa delle foreste voluto e organizzato dal Corpo Forestale dello Stato. Un viaggio alla scoperta del ricco patrimonio di vegetazione fa una penninica all'interno della riserva naturale dell'UNESCO a Monte di Mezzo, nel Molise Altissimo. Una gemma di circa 27.000 ettari incastonata tra sette comuni della provincia di Isernia. Carovilli, Chiauci, Pesco Lanciano, Pietrabbondante, Rocca Sicura, San Pietro Avellana e Vasto Girardi. Un sito in cui unire la conoscenza scientifica ad una salutare passeggiata tra boschi di faggio, aceri, abeti e querce. Un'area a mille metri di altitudine che con la vicina Colle Meluccio ha la funzione di ricreare spazi educativi per visitatori e scolaresche e fungere da centro recupero per rapaci feriti. In occasione della quarta edizione di Foresta Amica è giunta la visita guidata degli studenti di alcune scuole primarie di Isernia e degli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda. La festa delle foreste è organizzata dal Corpo Forestale con l'obiettivo di conoscere e proteggere alberi e boschi come luoghi ricchi di natura e biodiversità. Gli studenti hanno percorso il sentiero Colle San Biagio accompagnati dai loro docenti e dagli ispettori della forestale fianco a fianco ai recinti faunistici alla scoperta da vicino di cervi, daini e cinghiali. Prima dei saluti di rito la visita al museo ricco di esemplari imbalsamati della fauna locale tra gli altri il lupo, la volpe, l'istrice, l'aquila e il gufo reale tassi e gatti selvatici e la messa di mora delle piantine di abete regalate dagli agenti del Corpo Forestale. Sulla strada del ritorno, attraversando il verde di Colle Meluccio altra riserva della biosfera della provincia di Isernia sin dal 1977 non poteva mancare la visita allo splendido teatro sannitico di Piedra Abbondante visitato mediamente da più di 12.000 turisti l'anno. Nei pressi del paese si trovano i resti dell'insediamento che fu il più importante santuario e centro politico dei Sanniti tra il II secolo e il I secolo a.C. Nel complesso ellenistico italico si trovano due templi e un teatro quest'ultimo utilizzato ancora oggi per manifestazioni teatrali classiche nel periodo estivo. Lo zuccherificio di Termoli deve essere riconvertito non ha dubbi il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno politici, sindacalisti e lavoratori devono condividere la strada migliore ma le difficoltà sono diverse C'è volontà politica di portare avanti e far risorgere questo fiore all'occhiello? Ma la volontà politica è unanime ed è bipartisano voglio dire assolutamente sicuramente lì lo zucchero non si farà più di questo siamo altrettanto convinti tutti bisogna trovare altre soluzioni e per quello stabilimento che non è più della regione della procedura per cui bisognerà trovare il mercato l'imprenditore che sul mercato lo potrà riconvertire ad altre attività evidentemente ma con il riconoscimento dell'area di crisi semplice di quell'area così come fatto per l'area di crisi complessa dell'area Boiano-Isernia-Venafro bisognerà trovare politiche di lavoro attive che consentono la ricollocazione di tutti quanti gli operai se ipotizziamo ancora lo zucchero non andiamo da nessuna parte credo che abbiamo perso già troppo tempo nella speranza e nell'ipotesi di continuare a fare zucchero in quello stabilimento ormai lo zucchero non è più competitivo sul mercato siamo alla 14-15esima asta credo dello stabilimento questa la dice lunga sul fatto che quello è uno stabilimento che sicuramente non produrrà più zucchero è chiaro che questo prevederà tempi non certamente brevi per la riconversione di quello stabilimento c'è un problema sociale che sono 70 famiglie che stanno senza lavoro e che stanno soffrendo da troppo tempo e su questo noi dobbiamo attivare politiche attive sul territorio al di là dello zuccherificio quindi su questo stiamo lavorando ci stiamo confrontando lunedì faremo un'altra riunione con anche i rappresentanti della Giunta con l'assessore alle attività produttive e all'agricoltura mercoledì alla Capigruppo contiamo di portare una proposta ampiamente contivisa condividendola ancora di più con il Capigruppo per poi arrivare con un consiglio monotematico non dobbiamo nasconderci le difficoltà perché sennò sarebbe quasi illudere della gente che non merita assolutamente questo quindi massima trasparenza, franchezza però massimo impegno a trovare le soluzioni che possano far uscire quell'aria dalla crisi ma soprattutto i lavoratori dell'ex zuccherificio che stanno soffrendo da tanto tempo Protocollo di intesa tra Comune di Campopasso e Associazioni ADMO, AVIS, FIDAS e FRATES per sensibilizzare alla donazione di sangue e del midollo osseo un messaggio lanciato innanzitutto ai neomaggiorenni Più giovani doneranno sangue o midollo osseo più crescerà la possibilità di salvare vite a partire da quelle dei bambini Nel segno di questa consapevolezza Comune di Campopasso ed associazioni ADMO, AVIS, FIDAS e FRATES hanno firmato un'intesa promuovendo il progetto un dono per tutte le stagioni da maggiorenne scegli la generosità e diventa donatore Proprio al compimento del diciottesimo anno di età è infatti possibile diventare donatore L'amministrazione di Palazzo San Giorgio dunque porta avanti una nuova iniziativa Il progetto abbiamo immaginato di chiamarlo così perché è partito a Natale con la donazione degli organi e adesso trova compimento anche rispetto alla donazione del sangue e del tessuto midollare quindi un dono per tutte le stagioni perché è un atto di generosità che può essere fatto in qualunque momento anche se ci sono dei periodi dell'anno in cui è consigliabile farlo però per ogni tipo di indicazione rispetto a come fare, dove fare ci sono le associazioni a disposizione la brochure che verrà inviata conterrà anche questo tipo di informazioni quindi i ricapiti delle quattro associazioni che lavorano quotidianamente sulla donazione A spiegare i dettagli del progetto che si indirizzerà ai neo diciotteni il dottor Piacentino Salati L'amministrazione comunale ha inteso mettersi a disposizione semplicemente invitando i neo diciotteni che vengono iscritti nelle liste elettorali per cui ricevono una comunicazione con cui si informa che possono ritirare la tessera elettorale presso gli uffici del comune oppure la tessera viene inviata direttamente a casa a seconda dei casi unitamente alla tessera elettorale ricevono questo depliant informativo in cui i diciottenni che è l'età in cui si può cominciare a donare sanque vengono informati della possibilità con tutti i relativi riferimenti di poter diventare donatori quindi l'amministrazione comunale e le strutture del comune si sono messe a disposizione proprio in questo senso Il Molise oggi con oltre 16.000 donatori riesce a soddisfare il proprio fabbisogno ma resta importante fino ai 65 anni donare compiendo così non solo un gesto di generosità ma anche un atto di prevenzione su se stessi Presidente, che cosa significa oggi donare? Noi riteniamo che sia un atto d'amore e di altruismo crediamo che perlomeno nel Molise i nostri giovani sono sensibili alla donazione sia di sangue che di midollo osseo anche se quella di midollo osseo è un po' più complicata fortunatamente per il sangue le tre associazioni sono riuscite a raggiungere l'autosufficienza sangue per la regione Molise quindi crediamo che sia un grossissimo passo avanti sia culturale che sociale noi speriamo e continuiamo a lottare perché addirittura anche quando facciamo gli interventi addirittura nelle scuole addirittura dalle scuole elementari cerchiamo di inculcare nei ragazzi la solidarietà per il prossimo noi riteniamo che questo possa essere un dono d'amore per il bene dei nostri concittadini arriva a Termoli l'iniziativa di Nonno Ascoltami la campagna nazionale per la prevenzione dei disturbi dell'udito previste nella giornata di domenica le visite gratuite giunge in Molise a Termoli la settima edizione di Nonno Ascoltami la campagna nazionale che ha come obiettivo primario la prevenzione contro i disturbi dell'udito la campagna è patrocinata dal Ministero della Salute coinvolge 27 città e ben 8 regioni ed è stata organizzata grazie all'apporto delle strutture sanitarie dei luoghi coinvolti l'appuntamento è per domenica in piazza Vittorio Veneto a Termoli dalle 10 alle 19 dove sarà possibile per i cittadini che vogliono farsi controllare l'udito effettuare gratuitamente delle visite appropriate anche quest'anno la settima edizione Nonno Ascoltami porta in piazza 28 ospedali 28 istituzioni tantissimi volontari per combattere quella che di fatto è una vera e propria epidemia sociale e sanitaria l'ipoacusia è un problema la perdita di udito avere difficoltà a comunicare in maniera appropriata è un problema troppo spesso sottovalutato ecco perché Nonno Ascoltami con il patrocinio del Ministero della Salute e il riconoscimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità porta in piazza l'ospedale che si avvicina alla gente che permette di creare un contatto più intimo meno formale tra il medico che ringrazio il dottor Serafini con tutto il suo reparto e la cittadinanza che accoglie con grande entusiasmo questo invito l'evento si realizza in collaborazione diretta con la direzione sanitaria dell'ospedale civile Santimotio di Termoli è una delle poche iniziative sociali diciamo che vengono svolte da una istituzione pubblica con l'ausilio e grazie al supporto di una struttura privata noi purtroppo dobbiamo pensare che spesso la condizione che si è creata in questa regione, in questa nazione praticamente molto spesso allontana le persone meno abbienti le persone più svantaggiate dal punto di vista economico a fare accertamenti, esami, prevenzione quindi tutto quello che ci permette di fare questo lo dobbiamo accogliere in maniera veramente entusiasta cerchiamo di venire incontro come qualsiasi volontario perché ha la necessità di una popolazione a cui noi siamo legati perché questo reparto e questo ospedale è comunque a servizio della popolazione e svolge in diversi modi e anche in questo modo quindi perché ha la sua funzione Nonno Ascoltami è un marchio registrato dai fondatori dell'evento che si avvalgono del supporto indispensabile del gruppo Menzietti e Irene Polo dell'economia civile La manifestazione studentesca di oggi imperniata sulla difesa dei diritti e delle tutele a Campobasso e Termoli ha registrato l'adesione del comitato molisano per il no e del forum in difesa della sanità pubblica vediamo In tutta Italia oggi gli studenti e le studentesse manifestano nelle piazze per ribadire la necessità in uno stato veramente democratico di garantire i diritti e le tutele per ogni cittadino A Campobasso, all'iniziativa e al corteo hanno aderito molte sigle di associazioni e sindacati oltre al comitato molisano per il no al referendum consultivo del 4 dicembre Noi oggi vogliamo con la manifestazione di piazza sensibilizzare le persone perché dobbiamo svelare gli inganni nella propaganda dei sostenitori del Sì non è vero che si riducono i costi non è vero che si velocizzeranno i processi verranno solo ridotti gli spazi di democrazia non si vota più il Senato non avremo un procedimento legislativo inclusivo le regioni saranno tagliate fuori dalla vita dello Stato per questo gli studenti l'hanno capito e sono scesi in piazza e noi siamo al loro fianco felici di farlo Fa parte tutto di un disegno complessivo che comprende tante riforme dalla cosiddetta buona scuola al Jobs Act alla riforma della pubblica amministrazione e la riforma costituzionale rappresenta il punto conclusivo e di definitività di questo processo di riforma che riduce gli spazi di partecipazione dei cittadini Altra adesione importante è quella del forum per la difesa della sanità pubblica che racchiude tante associazioni che lottano appunto per difendere il diritto per tutti alla salute attraverso il potenziamento della sanità pubblica Gli studenti manifestano oggi per una deforma che va a modificare la Costituzione ma anche per contrastare per esprimere di nuovo il dissenso contro la riforma della scuola detta buona scuola che di fatto demolisce la scuola pubblica e tanto disagio crea anche ai lavoratori della scuola e per questo motivo che noi innanzitutto come forum abbiamo detto no alla riforma della Costituzione in quanto contiene i principi ai quali noi ci riferiamo difendendo il diritto universale alle cure e quindi siamo con gli studenti che sono stati sempre con noi nella battaglia a difesa della sanità pubblica raccolta, trasformazione, conservazione e vendita dell'olio extravergine molisano ampio dibattito questa mattina a Larino in occasione della fiera di ottobre la politica è chiamata a sostenere la valorizzazione dell'olio molisano e delle colture olivicole dibattito oggi nei padiglioni della fiera di ottobre sulle possibilità di crescita e commercializzazione fuori dal mercato regionale dell'extravergine a partecipare alla discussione anche i docenti dell'istituto agrario San Pardo di Larino un istituto nel quale è stato impiantato un campo varietale Noi come istituto tecnico agrario cerchiamo con il nostro campo catalogo varietale di iniziare a promuovere degli oli monovarietali ma anche oli plurivarietali opportunatamente assemblati chiaramente la qualità dipende oltre che dai aspetti genetici anche da fattori ambientali quindi fattori pedoclimatici e soprattutto la tecnica culturale e la tecnica di trasformazione quindi bisogna curare tutti questi aspetti per raggiungere i livelli qualitativi di eccellenza I piccoli produttori di olio del Molise sono competitivi sul mercato nazionale? Allora la maggior parte dei piccoli produttori che producono olive che poi vengono destinate alla produzione di un olio di massa ovviamente non sono competitivi anche perché se non si afferma se non si conquista il mercato attraverso l'adeguata remunerazione attraverso i prezzi non si è competitivi perché i costi di produzione sono troppo elevati chi invece inizia a conquistare quelle fette di mercato dove è possibile realizzare dei prezzi di mercato maggiormente remunerativi allora quelli iniziano ad avere chiaramente dei margini di produttività e le aziende possono essere competitive Come può fare la politica le istituzioni ma anche l'istituto agrario San Pardo di Larino a promuovere maggiormente questa che è una delle eccellenze della regione Molise? Allora sicuramente l'istituto agrario visto che ha impiantato un campo varietale un campo catalogo con tutte le varietà autoctone molisane cercherà di promuovere sia gli aspetti qualitativi che gli aspetti di tecnica culturale per la corretta gestione delle coltivazioni olivicole la politica deve sostenere queste attività cioè le attività dove c'è una sperimentazione fattiva e utile alla produzione olivicola molisana a miglioramento qualitativo a miglioramento delle linee di trasformazione la politica deve sostenerle noi non a caso abbiamo presentato un progetto per creare un centro sperimentale visto che noi facciamo molta sperimentazione nella nostra azienda pubblichiamo articoli sull'informatore agrario un centro di valorizzazione delle nostre colture quindi abbiamo bisogno di un finanziamento da parte della regione per poter costruire un centro aziendale quindi includere aule didattiche in questo centro ma anche ad esempio rimesse per macchine agricole o strumentazioni che utilizziamo per le nostre sperimentazioni quindi l'aiuto della regione potrebbe essere già questo oltre che chiaramente a facilitare a promuovere le nostre attività produttive anche al di fuori soprattutto al di fuori dei confini regionali Cambiamo argomento convegno conclusivo al Teatro Savoia di Campobasso del progetto che ha riguardato la prevenzione dei fenomeni di bullismo e anche l'emaginazione sociale all'interno del gruppo classe Vediamo questo servizio Di scena, questa mattina sul palcoscenico del Teatro Savoia di Campobasso un convegno con al centro le conclusioni di un lavoro progettuale condotto con gli studenti di alcuni istituti scolastici sul tema preciso della prevenzione dei fenomeni di bullismo e l'emaginazione sociale studiando ed analizzando le dinamiche all'interno di una classe Il progetto ha avuto un percorso temporale ed è stato curato negli interventi attivi di incontro con gli studenti da due psicologhe e psicoterapeute le dottoresse Giulia Leonelli e Alessandra Passarella La direzione primaria del percorso è stata quella della conoscenza delle persone entrando nella sintonia di una vicinanza necessaria che si chiama fondamentale a condividere i passi delle loro esistenze tenendo in grande considerazione i pensieri le storie personali i rapporti interpersonali le dimensioni culturali e anche e soprattutto la partecipazione ai percorsi sociali a commentare i risultati in platea e nei palchi di galleria oltre i ragazzi e i loro insegnanti il sindaco Battista i rappresentanti istituzionali del comune di Campobasso dell'ASREM dell'Università degli Studi del Molise i dirigenti scolastici degli istituti impegnati nel progetto i referenti dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Doping e il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise Gli agricoltori e le istituzioni del Molise per affrontare l'emergenza cinghiali chiedono all'ISPRA di allargare anche il periodo di caccia problematica sollevata a Salcito nel corso di un dibattito molto acceso vediamo La Regione Molise è intenzionata a chiedere all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale l'allargamento del periodo della caccia al cinghiale con l'obiettivo di contenere il numero elevato di animali selvatici In questa regione abbiamo un grosso numero di cinghiali presenti Cosa è successo? Negli anni in tutti questi anni dal 92 da quando è stata fatta la legge per la caccia ad oggi c'è stato un proliferare di cinghiali anche con una specie non proprio autotona con immissioni particolari e questi cinghiali riescono a partorire più volte durante l'anno e sono già capaci di partorire a tre mesi facendo cucciolate di 8 o 9 cuccioli e quindi ci ritroviamo oggi a distanza di 20 anni in una situazione di emergenza Come stiamo affrontando il tema? Con varie direzioni La prima è seguire la legge da 157 del 92 con l'articolo 18 che ci dice di andare a caccia al cinghiale per tre mesi all'anno in un arco di quattro mesi tre mesi consecutivi e allora abbiamo detto da novembre a gennaio andiamo a caccia in braccata dopodiché sono stato all'ISPRA e dopo ore di riunione facendo vedere la documentazione dei danni causati all'agricoltura 500 mila euro all'anno e dei numeri dei cinghiali abbattuti negli ultimi anni sono riuscito a concordare adesso manderò tutta la documentazione ufficialmente all'ISPRA di attivare i sele cacciatori che potranno andare a caccia da febbraio fino all'inizio della nuova stagione venatoria cioè fino a ottobre o a novembre e potranno questi sele cacciatori andare negli orari di caccia consentiti per cercare di contenere il numero dei cinghiali ecco adesso attiveremo anche dei corsi per formare i sele cacciatori ed è una prima risposta ma non basta questo stiamo anche vedendo insieme all'onorevole Vinitelli una risoluzione presso la commissione agricoltura parlamentare per portare il periodo della caccia al cinghiale non solo tre mesi consecutivi nei quattro mesi ma tutti e quattro mesi di modo che quattro mesi di braccata più i sele cacciatori cerchiamo di contenere il numero dei cinghiali per l'indenizia abbiamo approvato un ordine del giorno tre consigli regionali fa in cui chiediamo al presidente della giunta regionale di pagare immediatamente tutti i decreti ingiuntivi che ci sono e di prevedere nel prossimo bilancio il completamento del pagamento di tutti i danni bene era l'ultima notizia grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie per la visione